Musica Ancora in diretta con i nostri ospiti per riflettere su queste classifiche negative che vedono in Salento Lecce, Brindisi e Taranto negli ultimi posti in questo studio elaborato dal Sole 24 Ore ma anche in altri studi purtroppo non vanno meglio le cose, gli indicatori sono relativi però il dato è sicuramente preoccupante, ci sta facendo riflettere con il direttore generale della Banca Popolare Pugliese Maro Bucicchio, con l'avvocato Antonio Mega, assessore alla cultura del comune di Neviano con il dottor Lugino Sergio, aspetto di organizzazione e gestione degli enti locali e con il dirigente scolastico dell'istituto professionale tecnico La Noce di Maglie, Giovanni Casarano Lugino Sergio, una classe politica che deve decidere ma anche lei diceva degli organismi snelli forse abbiamo creato una macchina burocratica tra comuni, province, pseudo province, quello che c'è rimasto della provincia regioni che hanno dimostrato in questi anni una certa inefficienza ma anche una pletora di enti penso a unioni dei comuni, GAL, aree vaste, piani di zona, Ato, Aro, ce ne sono tanti insomma aziende partecipate, è veramente un disastro amministrativo, uno spreco forse anche di intelligenze di cervelli, di risorse, pensiamo a questi poveri sindaci che corrono dall'unione dei comuni alla provincia, poi devono andare a Lato, poi a Laro, anche con un disordine territoriale perché non sempre i territori sono accorpati in tutti gli enti in modo omogeneo quindi veramente forse tutto questo contribuisce a navigare a vista, a fare quello che si può e non a programmare seriamente il territorio. Quindi Lugino Sergio parlava dell'importanza di avere delle cabine di regia efficaci, efficienti, forse guardando anche oltre il risorgimento la nascita della Repubblica e quindi cercando anche di snellire in modo efficiente il territorio e non in modo caotico e disordinato come sembra essere stato fatto, non ho parlato delle città metropolitane, insomma in modo abbastanza disordinato e caotico come è stato fatto negli ultimi anni. Io vorrei andare velocemente ed entrare nel merito rispetto ad una sorta di politichese che ci vedrebbe potuti d'accordo senza tentare di sviscerare le questioni per le quali stiamo qui al netto dei complimenti dell'Avvocato Mecca perché lui è stato anche un ottimo consigliere provinciale le persone le studiavo, è un ottimo sindaco di Neviano, lo dico non per pareggiare i complimenti. Segno evidente che quantomeno nelle autonomie locali e territoriali l'appartenenza è importante ma fino ad un certo punto perché se noi eleggiamo gli amministratori soltanto in base all'appartenenza come si faceva qualche decennio fa e non selezioniamo un po' la classe dirigente abbiamo degli ameriti imbecilli, lo dico in maniera proprio esplicita, che non possono che produrre imbecillità a carico del cittadino. Ma chiedo scusa, questo mi fa comprendere che lei lega queste gradatore negative ad una classe politica inefficiente piuttosto che ad una crisi economica generalizzata. Ma in gran parte sì, vedete il mondo della scuola, vi allaccio in quello che diceva il dirigente della Noce, il Presidente, si chiamava così, che in qualche modo hanno anche sul classato del sistema delle autonomie locali. Prima vi era il direttore didattico della scuola elementare, forse quello della scuola materna, poi della scuola media, poi della scuola media superiore. Adesso ci sono gli istituti comprensivi anche, voglio dire anche dal punto di vista della razionalizzazione delle risorse umane interne, un ottimo dirigente può svolgere più ruoli con una economia, anche un'economia di costi. Le imprese, le aziende piccole sono necessitate a fondersi, ad aggregarsi, perché, lo diceva il direttore Bucicchio, altrimenti scompaiono dal mercato economico. E lo stesso, dicasi, per i comuni. Ecco, nel momento in cui abbiamo microcomuni, parliamo di comuni anche di 30, 40 cittadini che hanno lo stesso ordinamento di una città, gli stessi organi, 30, 40 abitanti, non 30, 40 mila abitanti. Allora è chiaro che la classe dirigente locale, provinciale, regionale, nazionale ha la propria responsabilità. Perché? A mio avviso non è un caso che noi troviamo Leccio e Brindisi e Taranto più giù rispetto a Bari, anche se di non moltissime posizioni. Perché la classe imprenditoriale di Bari è naturalmente più forte rispetto a quella di Lecce. La cabina di regia politica non ce l'abbiamo noi. Per cui ad un certo qual modo io, mentre parlo, ho negli occhi quel lungo treno che due o tre giorni fa partiva dall'interporto di Pavia per arrivare in Cina. Dopo 18 giorni, di percorrenza ferroviaria. E noi abbiamo perso l'interporto nel Salento perché Lecce ha litigato con Francavilla. Ma di cosa stiamo parlando quando noi parliamo di gradatorie da play-out e noi perdiamo le occasioni di investimenti pubblici, ma anche di creazione dell'assetto infrastrutturale che è una delle cause di debolezza. Allora io vorrei concludere questo intervento per dar modo anche di un dialogo. Prima di venire, io stavo lavorando su un progetto di fusione di due comuni che probabilmente potrà vedere la luce se il referendum a cui i cittadini verranno chiamati a sortire a effetti positivi tra Presicce ed Acquarica del Capo. Due piccoli comuni della provincia di Lecce, presso a poco di 5 mila abitanti ognuno. Acquarica un po' più piccola, Presicce un po' più grande. Bene, facevo il calcolo del taglio dei trasferimenti statali dal 2010 al 2017, dei trasferimenti erariali, dei trasferimenti che lo Stato riversa ai comuni dopo aver rastrellato i tributi nazionali. Bene, il comune di Presicce 2017 sul 2010 perde circa 500 mila euro in questi sette anni, il 40% secco di trasferimenti. Il comune di Acquarica perde intorno ai 300 mila euro, 2017 sul 2010, intorno al 22-23%, quindi perdiamo circa un milione di euro di trasferimenti. I bilanci per legge si chiudono in pareggio. Giustamente che cosa succede? A proposito di indicatori, se noi guardiamo la pressione tributaria, l'indicatore di pressione tributaria, possiamo vedere che questi due comuni sono superiori alla media anche nazionale, provinciale e regionale, nel senso che andiamo sull'86-87% di pressione tributaria, che significa tassazione locale a carico dei cittadini. Allora, nel momento in cui lo Stato mette a disposizione, da 30 anni a questa parte, 1990 legge 142, possibilità e possibilità di riordino territoriale e ci mettiamo due fette di prosciutto sugli occhi, ma di cosa stiamo parlando? Allora tiene ragione l'Avvocato Omega quando si parla di capacità amministrativa, entro certi modi, quando il Preside parla di visione illuministica anche della politica, quella centralità della regione, dell'orgoglio anche identitario, che deve fare in modo che noi meridionali non ci si senta diversi dai settentrionali, però purtroppo gli indicatori ci condannano, perché 42 sub-indicatori rispetto a quattro categorie in cui vengono sviscerati, il numero di sportelli bancari, il numero di posti letto ospedaliero, il numero di medici di posti letto e così via dicendo, non soltanto Taranto si trova in fondo alla gradatoria perché c'è l'Ilva, ma perché la spesa dei turisti non è produttiva a Taranto, perché il pro capite non è alto, perché vi mancano start-up innovative, dunque vogliamo dare almeno l'1% di responsabilità a noi stessi e quindi al cittadino che legge i soliti noti, se non invertiamo questa tendenza, la prossima gradatoria del Sole 24 Ore d'Italia oggi ci vedrà bene che vada alla medesima situazione. Bisogna ripartire dai giovani, dicevamo con il professor Giovanni Casarano, con il preside Casarano, la chiamo preside, come diceva giustamente Lugino Sergio, come siamo abituati a chiamarvi adesso, di riporti scolastici. Partendo dalla scuola, i giovani pensano a come andare a Londra o a Berlino per trovare un loro futuro, piuttosto che investire sul loro territorio, perché i dati sconfortanti, una situazione economica che stavamo descrivendo prima, molto negativa, non fa ben sperare per il futuro, invece avremmo bisogno di allevare giovani che con le loro competenze, con la loro preparazione restino qui nel Salento per realizzare le nuove aziende moderne, per accorpare le piccole aziende, per dare un futuro economico occupazionale al territorio e magari pensare a sollecitare un piano diverso di programmazione territoriale anche facendo in un certo senso pressione sulla classe politica. Quindi giovani che si preparano, che sono competenti, ma non solo per andare purtroppo a fare gli emigranti per il lavoro, ma magari rimanere qui e programmare lo sviluppo del territorio. I dati di cui posso disporre dal mio osservatorio, per usare un'espressione che ultimamente va di moda, mi danno una fotografia a tinte contrapposte, perché di fronte ad una forte spinta dei ragazzi che si impegnano e che sono fortemente determinati ad acquisire buone pratiche all'estero, perché noi, grazie anche a risorse esogene rispetto a quelle di cui possiamo disporre come amministrazione, come trasferimenti del MIUR, faccio riferimento ai fondi strutturali o ad altre forme di finanziamento messe in atto dai vari organismi, noi consentiamo ai ragazzi di fare anche esperienze di stage all'estero, quindi confrontarsi con modelli, non solo per lo studio delle lingue e l'approfondimento, ma anche per confrontarsi con modelli di vita, con settori produttivi differenti dai nostri. Dopo queste esperienze molti dei ragazzi ritornano in sede e sono fortemente orientati a restare nel Salento. Si scontrano però con le difficoltà di cui si parlava prima, una scarsa disponibilità culturale, io credo che sia, che poi si caratterizza anche in modelli di microimprese, di forme di sviluppo territoriale tipiche del nostro territorio, che non consente a loro di poter avere accesso a risorse se non attraverso gli istituti bancari, ma difficilmente. Penso alle ultime disposizioni regionali in tema di PSR, i finanziamenti disponibili per le realtà agricole del nostro territorio sono pressoché inaccessibili, atteso che chiedono partecipazione ed estensioni fondiari particolarmente cospicui di contro ad una proliferazione di microimprese del nostro territorio. Pertanto la voglia di intraprendere, che molti nostri ragazzi manifestano di voler esprimere all'interno del nostro territorio, rischia di essere mortificata da scelte che non supportano adeguatamente il cambiamento, il mutamento dei paradigmi culturali. Personalmente trovo anche difficile che questa mutazione possa avvenire se non c'è un ricambio generazionale delle classi dirigenti a tutti i livelli. È necessario che il Salento, visto che ci occupiamo delle tre province del Salento, si riappropi del proprio protagonismo, perché quel Salento da mare non rimanga solo uno slogan che è stato particolarmente affascinante, interessante, ma di cui ancora non abbiamo un modello sociale, economico e produttivo consolidato. Purtroppo i risultati ancora evanescenti. Ci fermiamo per l'ultima breve pausa pubblicitaria.